ciao a tutti oggi è domenica 18 giugno 2023 allora volevo farvi vedere un po la situazione del germinatoio vedete ho ancora delle piantine perché allora ho avuto un problema di pomodoro nel senso che mi avevano dato dei simi provenienti da una mostra che avevano parecchi anni di pomodoro tante varietà io lo seminate e poi si vede che nel terreno che ho utilizzato c'era un po di morella menata la morella la morella comune l'ho scambiata per pomodori e loro praticamente ho messo di nuovo sacco di morella poi lo moltiplicate per via vegetativa dove mi sono accorto quando sono cresciute se le foglie è sempre una sola naccia però alle foglie diverse eccetera e adesso mi ritrovo con parecchi morelle che devo stirpare e sostituire con dei pomodori e avevo i semi che aveva mandato alessandro per il progetto sovranità sementiera il mix evolutivo e lo ho deciso di seminarli quando le vaschette vedete stanno crescendo anche se in ritardo però lo faccio più che altro per moltiplicare il seme adesso li metto a dimora quando sarà sarà mi basta che facciano due o tre pomodori per pianta poi dopo insieme alle varietà tengo i semi per condividerli eccetera e queste sono vedete le vaschette che vedete qua di pomodori queste qua invece sono pomodori che sono nati sempre di quel mix del che ho amato tereso della mostra adesso vediamo un po che pomodori sono via cambia questi ciali in foglie da pomodoro non c'è le foglie tipo morella che adesso ho imparato a riconoscerla sbagliando si impara e questi metterò di moda questi qua invece sono dei cavolo nero che abbiamo già ripicchettato con la veronica vedete sono piccoline siamo molto in anticipo con con le semine dell'orto dell'orto autunno invernale solamente che ho visto che negli anni che se se uno riesce a mettere a dimora delle belle piantine a fine luglio primi d'agosto qui nella nostra zona di parma parti avvantaggiato ok qui adesso vi faccio vedere un po una panoramica veloce questa fa la modifica che avevo fatto avevo tolto il tetto ho già fatto un video ho fatto praticamente questi tipo setacci sopra è tutto per chiuderla perché si entrano le cavolaie così non riescono entrare non riescono a farmi le uova nei cavoli e poi intanto vedete di uso anche se devo ossicare dei semi eccetera li metto qua tipo queste sono fasi di tre abbiamo raccolte le mettiamo qua allarghiamo e seccano bene allora qui abbiamo diverse tipologie di radicchio vedete e di cavoli ce ne sono boh 7 8 tipi di cavolo vedete verze broccoli il cavolo nero adesso non mi ricordo comunque c'è un paio di verde c'è tra tutti i semi che questi sono semi che ho acquistato da ricordo sia dai tassiamenti comunque sono varietà non ibride però non sono semi autoprodotti perché stiamo partendo adesso a autoprodurci i nostri semi con le piante l'anno scorso ho fatto fatto un video lo trovate nei video della settimana scorsa trovate i cassoni dove ci sono le verze che stanno andando insieme poi abbiamo delle mele vedete i semi di mele che utilizziamo da parte in nestro poi ho fatto gli altri vasetti ma non sta nascendo niente poi ci sono dei finocchi che poi metteremo a dimora adesso andiamo avanti spostiamo un attimo questo così ci posizioniamo qua qui ci sono degli altri cavoli che adesso andiamo andremo a ripicchettare settimana prossima ho preparato le serre la serrette trovate un video con le serrette dove andremo a ripicchettare le mette nelle celle negli alveoli e poi li metteremo lì che adesso non è che è una bella cera però i più belli ne andiamo ripicchettare e questi qua sono vedete finocchi sono abbastanza belli e questa qua è una piantina di peperoncino che ci ha portato il buon andrea quando trovate la tenevo qui per non farle bridare per tenere i semi regole da retta in purezza perché fuori dei peperoni e non volevo che si bridassero non volevo mettere una retina qui ci avevo la serretta accesa questa era tanto che ce l'ho tenuto qua poi la metterò fuori coperta da da una retina altrimenti mi scegno questi semi questi due peperoncini qua che c'è e tengo i semi da quelli eccetera vedete ho notato che i semi germinano veramente bene qua dentro perché c'è bel caldo adesso adesso non so che temperatura c'è vedete ci sono 26 gradi sono le 10 di mattina e poi abbastanza ventilato ma riesco ad affiarlo bene ho fatto così sottovasi qua e dopo li andiamo a ripicchettare stiamo andando bene via non siamo molto contenti adesso chiaramente vanno ripicchettate perché stanno crescendo molto però si riesce si riesce a gestire abbastanza bene poi con queste grille qua non c'è il problema della cavolaia che quando quando inizia con le piantine piccoline veramente un problema dopo si trovano tutte le labbra e mangiano tutto in pochissimo tempo e nient'altro era solo un video per farvi vedere la situazione del delle piantine di come stanno crescendo eccetera quindi vi ringrazio se avete qualche domanda scrivete poi nei commenti o scrivetevi al gruppo di telegram trovate il link nella descrizione del canale e mi trovate mi trovate sia sul gruppo sia se avete necessità scrivete nei commenti e vedete che vi risponderemo va bene e vi ringrazio ciao a tutti e alla prossima ciao ciao ciao